Buongiorno a tutti, io sono sempre il dottore di Rineo 830, sono qui per presentarvi la seconda puntata dello show di meglio. Anche oggi farò vedere un altro cliente con altre pasticche molto strane. Bene, come vi ho detto già nella puntata scorsa dovete indossare queste cuffie, che sono molto importanti e da figli. Anche io oggi le indosserò per lavorare. Bene, fammi andare a vedere un attimo le chiamate. Pronto? Nanna? Sei tu? Ah no, è Cia. Che cazzo vuoi? Le pasticche? Ma per me devi venire a rompere le panne? Da me? Vabbè. Beh, mi dici tutto di panna che pasticche vuoi, che parte? Il culo? Va bene. In che parte precisamente? Il neutrone o il bufio del culo? Eh, neutrone. Ma ne hai visto? È cazzo lì che ti ho? Ah no, bufio del culo. Ok. Bene, ci stavo dicendo. Che tipo di pasticche vuoi? Si rambo, pasticche liquida o pasticche normale? Paticche liquida? Va bene, ma fa molto dolore. Va bene. Va bene. Che tipo di problema hai? Purtroppo. Non riesco a lavare. Ok. Che penso io. Fammi aspettare un attimo in linea. Mi dispiace. Tia, non ho nessun tipo di pasticche, ma una siringa. Va bene lo stesso? Oh, ah, va bene. Ok, adesso te la invio. Aspetta un attimo. La faccio vedere al pubblico. Ecco la pasticca. Questa è da infilare nel culo ed aspettare 5 minuti. Te la invio subito per posta, va bene. Oh, bene. Bastino! Per 5 minuti si arriva. Ciao, mamma. Vi è piaciuto questo video sfaccante? Allora mettete 5,500 mi piace. Ci vediamolo alla terza puntata. Super lì! E ricordatevi di chiamare per le pasticche.